Oggi siamo qui con Fernando Siani, protagonista di Cronache di Spogliatoio e protagonista anche oggi qui al Summit con un panel insieme a Pardo. Che ci racconti? Sì, sì, sarò insieme a Pierluigi per YouTube. Faremo un walkabout allo Stadio Olimpico in maniera un po' particolare, insomma, nel nostro stile. E niente, parleremo un po' di come YouTube ha cambiato il percepito di Cronache e non solo, insomma, anche del giornalismo sportivo in generale. Tanto complimenti per il lavoro che state facendo su Cronache. Qual è lo spunto, la storia, l'aneddoto che in questa avventura ti ha colpito e ti ha appassionato di più? Ma guarda, sicuramente la cosa che mi sta trascinando di più sono le live, il progetto delle live con Fontana di Trevi, tra l'altro insomma siamo a Roma, quindi vicini alla vera Fontana di Trevi e è un progetto che sta andando molto bene, siamo molto felici, speriamo che possa crescere sempre di più. Il 9 dicembre faremo una serata a teatro con Fontana di Trevi e una novità, diciamo, nel contesto dei podcast sportivi, il fatto di portare una puntata a teatro, al Teatro Archibaldi di Milano e, insomma, la vera scintilla di Cronache è questa passione incredibile che fa fare le cose, ok? Cioè hai voglia di fare una cosa e il giorno dopo l'hai fatta, non è così scontato, non è così banale, ma con Cronache si lavora sempre per provare a realizzare uno step in più rispetto a dove siamo ora. Passando all'Inter, qual è secondo te oggi il giocatore più da Cronache? Cioè il giocatore che ti, diciamo, ti ha affascinato di più, ti ha incuriosito di più, in questi giorni si parla di nuovo tanto dell'esplosione di Marco Sturam, lui che storia ha e che storia avrà, secondo te? Secondo me sì, Marco Sturam è proprio il giocatore perfetto per Cronache perché dentro di sé ha mille storie, cioè secondo me Marco Sturam è proprio l'internazionale, cioè uno che è nato in Italia, che è cresciuto in Spagna, è però francese, quindi ha mille anime dentro di sé. Che voleva fortemente l'Inter. Che voleva fortemente l'Inter, certo, è un giocatore che è arrivato all'Inter con 12 mesi di ritardo, no? Perché era praticamente stato già acquistato, poi si è rotto il ginocchio e ha ritardato di un anno il suo arrivo. Un giocatore che prima dell'Inter non giocava nel ruolo in cui gioca adesso, invece si sta rivelando degli attaccanti, c'entra avanti migliori del campionato. Sul suo futuro onestamente non lo so. L'Inter ha sempre attuato una politica in cui la plus valenza è al centro di tutto. Essendo arrivato a zero, Turam potrebbe rappresentare una plus valenza molto importante per l'Inter. È anche vero che rientra anche a pieno nei parametri della nuova società, è un giocatore ancora in via di sviluppo, che può crescere ulteriormente e quindi credo che l'Inter possa avere ancora Turam in rosa per i prossimi anni, anche se insomma mi aspetto che in estate qualcuno venga a bussare e anche con un'offerta importante che un po' farà bacillare sicuramente. Passando invece a Lautaro Martinez, tu sei tra quelli che lo coccola ancora, che ritiene possa dare ancora molto di più oppure lo hai bastonato come hanno fatto molti? Non ho mai bastonato Lautaro Martinez e non credo proprio che si possa bastare Lautaro Martinez, è un giocatore che ha fatto 30 gol l'anno scorso, quindi come si fa a parlare male di Lautaro Martinez? È chiaro che viene da un'estate in cui non ha fatto la preparazione, in cui ha sempre giocato, è palesemente in ritardo di condizione, non credo che ci siano altri problemi. Lui ha sempre avuto delle annate in cui per un paio di mesi fa fatica, quest'anno si è portato in avanti con il lavoro, ma non credo si possa mettere in discussione un giocatore del genere, l'anima, il capitano e l'Inter, un trascinatore, non si può discutere Lautaro, è impossibile, non si può discutere. Grazie, grazie davvero. Grazie a voi, ciao.